Commercialisti Next, generazioni di professionisti verso nuovi scenari. È già tutto molto chiaro dal titolo appunto di questo lavoro che coinvolgerà, pensate, oltre 1500 professionisti provenienti di tutta Italia, è presente il Presidente nazionale, ovviamente il Presidente della provincia di Pesaro Urbino, per capire esattamente come i commercialisti affronteranno il cambiamento imposto dalla vita di tutti i giorni e dalle leggi che cambiano, oltre che dalle grandissime argomentazioni sovranazionali che stanno decisamente influenzando l'economia di tutto il mondo. Questo è un evento che abbiamo fortemente voluto con Pesaro Capitale della Cultura, oltre 1500 professionisti provenienti da tutta Italia, questo per noi è chiaramente un motivo d'orgoglio ed è anche un'opportunità per tutti quelli che saranno presenti di creare anche nuove relazioni professionali con altri professionisti che provengono da diverse parti del Paese. Certo, Pesaro è una città splendida, una città che ci consente, infatti una delle tavole rotonde sarà integralmente dedicata all'economia della cultura, di fare una riflessione con quelli che sono i principali protagonisti, sia professionisti ma anche addetti ai lavori sulla cultura come booster di crescita del sistema economico locale e anche nazionale. La nostra è una professione che è in forte evoluzione, chiaramente come in evoluzione l'economia in questi periodi con digitalizzazione, intelligenza artificiale, sostenibilità, sono tutti elementi che travolgono la nostra professione e quindi mettere a fattor comune le esperienze di professionisti che vengono da diverse parti d'Italia con diverse tipologie di clientela e di ambienti sociali, di ambienti economici, sicuramente arricchisce tutti e cerchiamo di dare una visione comune al futuro della nostra professione. La professione sta cambiando e cambia in maniera repentina, ma soprattutto una professione dico con forza viva e una professione che è più viva che mai perché si trova all'interno di un momento di una congiuntura storica in cui c'è in atto un cambiamento culturale. Cambia il paradigma di fare la professione, sempre più consulenti strategici, sempre più consulenti sostenibilità, sempre più centro di quelle che sono le funzioni di gestione anche della crisi d'impresa, diventiamo sempre di più il punto di riferimento naturale per le istituzioni, per il Paese, lì dove c'è ovviamente da discutere di questioni di carattere economico, finanziario e fiscale. Noi istituzionalmente dobbiamo favorire l'ingresso alla professione, naturalmente l'ingresso alla professione soprattutto dei giovani perché se si inizia, si inizia normalmente dopo l'università attraverso l'accesso, attraverso il superamento di un esame di abilitazione e poi successivamente o in proprio attraverso l'inserimento in studi che magari sono già in qualche modo affermati sul mercato. Bisogna trovare il modo anche concretamente di favorirli, di aiutarli soprattutto facendo capire che la professione non è solo semplicemente tenere la contabilità, fare la consulenza fiscale che a volte può essere anche un po' noiosa, ma è un affiancamento alle imprese che in qualche modo anche a livello sociale aiuta a produrre ricchezza che poi va suddivisa su tutti e soprattutto per i giovani che devono avere accesso alla professione e quindi avere anche un incentivo di tipo economico, capire che anche attraverso la professione possono avere un futuro. Il Consiglio nazionale presenterà proprio in questo evento un progetto che ha con il sole 24 ore, generazioni giovani di talento, che sarà quella di cercare di attirare giovani professionisti all'interno della nostra categoria e anche noi come Ordine di Pesaro, assieme alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Pesaro e all'Università d'Urbino abbiamo un progetto che dovrebbe terminare con un protocollo d'intesa sottoscritto anche da studi professionali dove cercheremo di identificare delle linee guida durante il periodo di praticantato, quindi di pratica dei futuri professionisti, ma non solo, ma disegnando anche delle opportunità di crescita post-abilitazione, quindi dando ai giovani la possibilità di sviluppare al massimo le loro competenze e soprattutto di soddisfare le ambizioni di crescita all'interno degli studi professionali. Grazie 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 Grazie